Un bel ritrovati ai nostri amici telespettatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Focus Azienda. Mi trovo all'interno dell'azienda Loimballi in via Beniamino Gigli al civico numero 5 e in questo appuntamento con Sara e Gelsomina viaggeremo attraverso le corsie di i vestiari per quanto riguarda il discorso lavorativo, le situazioni antinfortunistiche, tanti accessori per la pulizia della casa ma soprattutto l'imballaggio. E come anticipato qualche istante fa mi trovo nello showroom insieme a Gelsomina. Ma chi siete e dove vi trovate? A me viene voglia di saperne di più, un po' come se viaggiassimo su un sito online però in questo caso lo faremo in tv. La nostra azienda Loimballi è situata in via Beniamino Gigli numero 5 esattamente in zona Foruguario a Reggio Emilia. Siamo presenti sul mercato da circa 30 anni e abbiamo oltre 3000 clienti che non sono pochi che sono molto soddisfatti del nostro servizio e della nostra qualità. Di cosa vi occupate nello specifico? La nostra azienda fornisce materiale di imballaggio antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e prodotti per la pulizia. Poiché forniamo questa vasta gamma di prodotti abbiamo clienti di tutti i settori merceologici quali ferramenta, galleria d'arte, falegnameria, vetreria, verniciature e tanti altri. Ma quali sono i prodotti di imballaggio che voi trattate abitualmente, giornalmente? Per quanto riguarda l'imballaggio i prodotti di maggiore consumo sono il film estensibile sia manuale che automatico e disponibile anche in varie colorazioni, il cartone e i suoi derivati come ad esempio le scatole di cartone, gli angolari, fogli interfaccia, l'airball che ce l'abbiamo disponibile in varie grammature e anche potete trovare anche degli airball accoppiati con ad esempio la carta piuttosto che il cartone e poi la reggia e i relativi accessori e i nastri di varie dimensioni e qualità. Ci tenevo a sottolineare il fatto che per quanto riguarda alcuni di questi articoli citati qui da noi avete la possibilità anche di personalizzarli con un vostro logo. Peraltro visto e considerato che si parlava di loghi, perché non poterli magari anche prendere in considerazione sull'abbigliamento perché tu oggi sei vestita in maniera splendida, devo dire che hai una mise molto 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 bella, io ci andrei in giro tranquillamente per cui tutto sembra tranne che un vestito antinfortunistico, per cui parliamo anche di questa personalizzazione dei capi di abbigliamento. Esatto, proprio così, ovvero come per l'imballaggio, anche per l'abbigliamento, da noi potete personalizzarlo, quindi sempre con un logo di vostra richiesta noi riusciremo a personalizzare il capo, l'indumento che per voi è più idoneo indossare. Ovviamente quello che vedete qui esposto è una piccola parte di abbigliamento che noi trattiamo perché a magazzino ne abbiamo veramente tanto, oltre ai soliti capi di lavoro, quali non so, le pettorine, piuttosto che le tute, giacche, pantaloni, felpe, t-shirt, abbiamo anche degli indumenti che possono essere utilizzati in settori specifici, ad esempio l'abbigliamento usegetta, che è molto utilizzato ad esempio nei settori alimentari, oppure l'abbigliamento ignifugo, l'abbigliamento antipioggia e anche l'abbigliamento anticalore, insomma ne abbiamo veramente tanto disponibile a magazzino. E siamo in un altro angolo della Lo in Balli insieme a Sara, ti abbiamo un attimo rubato dal tuo lavoro, ciao! Ciao! Ma chi sono i vostri clienti? A chi vi rivolgete voi? Beh, allora principalmente ci rivolgiamo alle aziende e ai privati dell'Emilia Romagna e della Lombardia, ma siamo comunque in grado di fornire il nostro servizio anche in altre regioni d'Italia. Quali sono i vostri punti di forza? Beh, allora sicuramente sono i prezzi vantaggiosissimi e molto competitivi e inoltre forniamo una consegna molto celere, nel senso che in 48 ore dalla data dell'ordine siamo appunto in consegna e indubbiamente un nostro punto di forza è la qualità dei nostri prodotti, appunto, che vi invitiamo anche a venire a testare con mano nella nostra sede e avete la possibilità anche di ordinare online dal nostro sito internet loinballi.it e poi abbiamo dei rappresentanti di zona molto preparati che saranno appunto disposti a rispondere a qualsiasi vostra esigenza e a chiarirvi ogni dubbio. Per cui vericità e velocità. Certo. E siamo quasi giunti alla fine di questo percorso informatico dove in realtà per eccellenza prevale quella che è la denominazione più importante, l'antinfortunistica, per cui abbiamo fatto alcuni step e soffermiamoci sull'antinfortunistica. Cosa mi dici di più e ai nostri amici che ci vedono da casa? Beh, allora vogliamo ricordare che per quanto riguarda l'antinfortunistica abbiamo moltissimi articoli, questo perché la sicurezza sul lavoro è molto importante ormai in qualsiasi azienda e in qualsiasi attività, per cui abbiamo articoli per la protezione del capo, per la protezione visiva, per l'udito, anche per le mani e ci teniamo a ricordare che abbiamo la possibilità anche di fornire degli occhiali con delle lenti progressive su prescrizione medica. Inoltre, come potete vedere appunto dal nostro showroom, abbiamo una vasta gamma di scarpe e ci teniamo a ricordare che siamo anche un Red Lion Point, ovvero siamo un punto vendita della nuovissima linea dell'U-Power, la Red Lion, la cui caratteristica è questa suola che si chiama Infinergy di BASP, che garantisce leggerezza ed elasticità ai propri piedi durante tutta la giornata lavorativa. Ed infatti questa scarpa era stata studiata inizialmente come per lo sport. Noi ci rivedremo tra qualche istante insieme anche con Gelsomina per i saluti finali, ti lascio il tuo lavoro che peraltro vedo anche essere molto bene ripagato da un punto estetico perché ci sono degli abbigliamenti lavorativi che veramente lasciano senza fiato. Grazie Sara. Grazie a voi. E siamo giunti alla fine di questo percorso insieme a Gelsomina e a Sara che peraltro vorrei chiedere a Gelsomina perché la gente da casa dovrebbe essere in un certo qual modo spinta a venirvi a trovare oltre per la consulenza gratuita e per questa bellissima passeggiata che si può fare nel vostro showroom? In primis perché appunto offriamo una vasta gamma di prodotti che per la maggiore è sempre disponibile a magazzino quindi il fatto che abbiamo dei prodotti in pronta consegna è sicuramente un punto che gioca a favore del cliente. In secondo luogo la qualità dei nostri prodotti è ottima quindi insomma potete appunto venire qui da noi e testarlo con mano. E oltre che noi consigliarla alle aziende abbiamo anche a che fare con i privati perché sappiamo che in questo periodo tanti lavori si fanno in casa di giardinaggio e di manutenzione e sappiamo che le vostre scarpe antinfortunistica sono anche molto 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 ricercate da tutte quelle persone che amano fare i lavori giornalmente in casa che però magari è meglio che in un certo qual modo si prendano anche delle piccole precauzioni. Beh sì certo perché appunto le scarpe da lavoro oltre a essere utili sia nelle piccole che nelle grandi aziende in realtà appunto come dicevi è importante anche in casa quando si fanno dei lavori anche per hobby così sia comunque protetti e quindi noi fornendo appunto anche privati potete venire qui e provare le nostre scarpe e piuttosto che qualsiasi altro prodotto di antinfortunistica che a voi può servire e noi abbiamo tutto disponibile. E se poi proprio non riuscite a trovare nulla cosa che io non credo assolutamente per quale motivo bisognerebbe venire qui presso la Loi in Balli in via Beniamino Gigli al Civico 5 in Reggio Emilia? Beh perché ci siamo noi? Allora noi vediamo il prossimo appuntamento ancora una volta con Focus Azienda. Grazie a Sara, grazie a Gilsomina, a voi studio.